Ministro, avevamo pronosticato una sua relazione fredda e priva di novità e così è stato. La verità è che quel motto «Cambiamo l'Italia per cambiare l'Europa» di circa un anno fa di Matteo Renzi alla fine si è dimostrato ancora una volta essere semplicemente un annuncio. Voi non avete credibilità. Siete stati assenti da tutti i tavoli decisivi e decisionali rispetto alla questione greca. Basta guardare le foto di quei tavoli. E siete stati assenti nonostante l'Italia è uno dei maggiori creditori nei confronti della Grecia. Qua ho sentito parlare di solidità e fiducia rispetto alla nostra economia. Ma lei, Ministro, è così convinto che noi siamo così distanti dalla situazione della Grecia? 4 milioni di poveri, 6 milioni di indigenti, il record di pressione fiscale, la disoccupazione giovanile che supera il 40%, 121 suicidi per crisi economica negli ultimi sei mesi. L'industria manifatturiera dalla quale dovevamo partire è stata completamente o quasi ceduta agli stranieri. Le piccole e medie imprese completamente abbandonate, tra tasse, studi di settore e le vessazioni dell'Agenzia delle Entrate, che colpisce solo ed esclusivamente chi paga, non chi non paga. Bel bilancio, Ministro, e neanche due anni di governo. Intanto abbiamo un Presidente del Consiglio che l'anno scorso ci ha detto per il 2015 18 miliardi di euro di tasse in meno. Se li ricorda, Ministro? Sfido chiunque a dirci che ha pagato un euro in meno di tasse rispetto all'anno scorso. Oggi è arrivato il punto di dirci 50 miliardi in meno di tasse nei prossimi tre anni. Non è credibile, lo sa anche lei, Ministro. Anche perché la Banca d'Italia, nelle sue relazioni, ci dice che rispettare i trattati di vincoli europei che voi non siete in grado di cambiare dovremmo avere un prodotto interno lordo intorno al 3%. Il Fondo Monetario Internazionale, del quale lei faceva parte, ci dice addirittura che ci vorrebbero vent'anni andando avanti così per poterci riprendere. Intanto mancano 17 miliardi di euro rispetto all'accordo che voi avete fatto sulle clausole di Salguaguardia con l'Unione Europea per evitare l'aumento dell'IVA il prossimo anno. Però qualche soldo l'avete trovato, Ministro. Tra una balla e l'altra, facendo un calcolo spannometrico, il business dell'immigrazione finanziato col pubblico potrebbe arrivare a 5 miliardi di euro. Prima o poi ci direte anche dove li trovate, quei soldi. Ma lei, Ministro, cosa direbbe a un sindaco che non è in grado di chiudere il bilancio oggi? Le direbbe che lei ha provveduto a compensare il buco di bilancio del governatore della regione Sicilia, Crocetta, o il buco di bilancio del sindaco di Roma Marino. A proposito, Ministro, è sempre così convinto di sostenere la candidatura di Roma per l'Olimpia di 2024? O il sindaco di Boston è molto più lungimirante di quanto lo siete voi? E a un giovane, Ministro, quale prospettive gli indicherebbe a un giovane in questo momento? Ad un artigiano, un commerciante che rischiano di chiudere, cosa gli direbbe? Abbiamo salvato l'Europa, abbiamo salvato la Grecia? E ad un anziano che non mette insieme il pranzo con la cena, o che ha paura dei furti quotidiani, cosa direbbe? Abbiamo salvato l'Europa, abbiamo salvato la Grecia? Questo è lo stato dell'arte, Ministro. Guardi, la Grecia ha avuto un piccolo sussulto di democrazia, anche se è stato affossato. Noi l'unica speranza che abbiamo è che questo sussulto di democrazia torni anche in Italia. Ci facciano tornare a votare in maniera tale che chiudiamo ed evitiamo ulteriori danni irreparabili che voi possiate fare. Magari gli unici contenti saranno quelli dell'Associazione Bancaria Italiana. Grazie.